Benvenuti a questa lezione di programmazione ad oggetti in cui parleremo di tipi generici. I tipi generici sono un'aggiunta di Java che permette di andare a gestire in maniera agile classi che possono andare a contenere dati di tipi molto diversi. Quello che succede molto spesso è che io abbia la necessità di svolgere lo stesso tipo di operazioni o di memorizzare in maniera analoga, seguendo lo stesso tipo di struttura, dati di tipo diverso. La soluzione tipica che viene utilizzata è quella di adottare dei riferimenti di tipo obgetti, riferimenti universali, che quindi possono puntare a qualunque tipo. È chiaro che l'utilizzo di oggetti porta ad alcuni inconvenienti, in particolare è necessario fare dei cast espliciti quando devo fare un downcast. Non posso svolgere dei controlli a runtime, per cui se utilizzo un riferimento di tipo obgetto non posso verificare che quel oggetto abbia alcuni metodi piuttosto che sia compatibile con alcune caratteristiche. E i downcast, che devono essere espliciti, possono essere verificati esclusivamente a runtime, quindi in fase di compilazione io non sono certo della correttezza dei cast. La soluzione è quella di utilizzare dei tipi generici. Vediamo il problema in termini di un esempio. Diciamo che vogliamo utilizzare una classe che si chiama pair, che contiene per l'appunto una coppia, un paio di oggetti. Volendo permettere di memorizzare oggetti e coppie di qualunque tipo, la soluzione è quella di andare a utilizzare degli object. Quindi avrò un costruttore che riceve due object e avrò due metodi, first e second, che mi permettono di andare a restituire il primo e il secondo elemento. Attenzione che utilizzando object qui o qui non posso andare a memorizzare dei tipi primitivi. Quindi di questo è un vincolo, quindi dovrò andare a utilizzare implicitamente o esplicitamente degli oggetti di tipo wrapper. Quindi posso andare a costruire una classe pair a cui passo due stringhe oppure a cui passo due interi. Attenzione qui entra automaticamente in funzione il meccanismo di autoboxing, quindi uno e due che sono interi, automaticamente vengono convertiti in oggetti di tipo integer. A questo punto per andare a utilizzare gli elementi di queste coppie devo utilizzare dei cast. Quindi string se vado a prendere l'elemento della coppia di stringhe, integer se vado a prendere un elemento della coppia di integer. Ovviamente io posso anche commettere degli errori, quindi vado a prendere il secondo elemento della coppia di interi e faccio un cast a string. Questo non può essere verificato a runtime perché second restituisce un obgetto e quindi io ragionevolmente posso fare un cast da obgetto a string. Il punto è che in fase di esecuzione quello che riscontriamo è un class cast exception. Per cui innanzitutto posso fare delle coppie miste mettendo ad esempio integer e stringhe oppure stringhe integer e non ho nessun controllo sul fatto che i due tipi siano omogenei. Quello che posso fare in fase di esecuzione è andare a utilizzare un instance of per verificare se un certo downcast è corretto o meno. La risposta a questo tipo di problemi è quello di utilizzare delle classi generiche, ovvero delle classi come questa dove aggiungo alla classe quello che è un parametro di tipo. Ovvero dichiaro che per non è una classe specifica ma è una classe generica, ovvero è una classe che può avere tante varianti in funzione di quello che è il suo parametro di tipo. In questo caso parliamo di parametri di tipo perché al posto di t non potrò mettere un valore ma dovrò mettere un tipo vero e proprio, ovvero il nome di una classe. A questo punto se t è il parametro della mia classe generica per andrò a dichiarare che a e b sono di tipo t, che i parametri che passo al costruttore sono di tipo t, che i metodi first e second restituiscono elementi di tipo t, che abbiamo set first e set second che anche essi ricevono dei parametri tipo t. A questo punto io posso avere una classe che è una coppia di string, una coppia di integer, una coppia di qualunque cosa. A t posso sostituire una classe generica. Quindi posso dichiarare un pair di string che è uguale a new pair 1 e 2, due stringhe, pair di integer new pair 1,2. Posso anche tentare di fare un pair di string a cui passo new pair 1, un valore intero, e 2, stringhe. Questo risulta in un errore di compilazione perché ovviamente pair prevede che i due tipi che vengono passati come parametri del costruttore siano identici, t, a e t, b, avevamo scritto qui, t, a e t, b, quindi a e b devono sostanzialmente essere dello stesso tipo. Risultato? Il compilatore mi dice non è possibile andare a creare una coppia dove ho 1 e la stringa 2 perché non sono dello stesso tipo, quindi non esiste un costruttore adatto. Un altro grosso vantaggio è che, visto che second restituisce direttamente il tipo corretto, quindi stringhe nel caso di una coppia di stringhe, non è necessario un downcast. Perché? Perché ho fatto tutto il compilatore. Posso scrivere int, b uguale, pip, un fatto first e qui vado a sfruttare automaticamente l'auto-unboxing. Visto che first chiamato sull'oggetto ip restituisce un integer e quindi può essere automaticamente convertito. Inoltre, se cerchiamo di andare a fare una conversione tra il risultato di second chiamato sulla coppia di interi in una stringa, immediatamente il compilatore è in grado di segnalarci un errore. Quindi non dobbiamo aspettare l'esecuzione del codice, ma abbiamo direttamente l'errore segnalato in fase di compilazione. Qual è la sintassi che possiamo utilizzare per andare a dichiarare i tipi generici? Sostanzialmente possiamo utilizzare la parola chiave class oppure interface, perché possiamo avere sia classi che interfacce generiche, il nome della classe o dell'interfaccia e poi i parametri di tipo racchiusi tra minore e maggiore. Ovviamente, nell'esempio abbiamo usato un unico parametro di tipo, ma possiamo avere anche molti parametri di tipo separati da virgola. I parametri rappresentano classi o interfacce e convenzionalmente sono scritti con la lettera maiuscola. Normalmente abbiamo T, E, K, V, R, questi sono i tipici nomi che utilizzo con un'unica lettera per andare a rappresentare i parametri di tipo. A questo punto abbiamo i tipi generici, possono essere molto utili e in effetti, a partire dal Java 5, ovvero la versione di Java in cui sono stati introdotti i tipi generici, tutte le interfacce e le classi che abbiamo visto e che erano presenti in Java e utilizzavano degli object, sono state convertite in modo da poter utilizzare dei tipi generici. L'uso delle interfacce con i tipi generici è tendenzialmente più sicuro perché il compilatore è in grado di fare una serie di controlli a compile time evitando problemi a runtime. Sono molto più compatti perché non devo andare a mettere upcast, downcast e quindi risparmio tutta quella parte. Sono tendenzialmente più facili da comprendere perché il codice aggiuntivo rende la comprensione più complicata e in termini di prestazioni non c'è nessuna variazione, quindi sostanzialmente alla fin fine il codice che viene eseguito è lo stesso che utilizzava gli object ma c'è tutta un'infrastruttura che viene sfruttata in fase di compilazione che permette di andare ad avere del codice più sicuro e più compatto. Ad esempio, l'interfaccia comparable che abbiamo visto parlando delle interfacce e andando a vedere come possiamo andare a ordinare gli oggetti, nella realtà è dichiarata come un'interfaccia comparable con parametro t. A questo punto la grossa differenza è che invece di avere qui un object, compare to object, abbiamo un compare to t. per cui se io vado a dire che l'interfaccia, che la classe student implementa comparable senza usare il tipo generico devo andare a mettere un object, devo mettere un cluster. Se invece vado a dire che implementa comparable di student, automaticamente il metodo compare to può accettare uno student invece di un object. Quindi mi risparmio il cast e posso semplicemente andare a fare il confronto tra i due identificatori degli studenti. Quindi un grosso risparmio di codice e soprattutto molto più facile. Non devo andare a scrivere quel cast, non devo andare a mettere un parametro student scusate, object invece di student che è praticamente abbastanza controintuitivo e quindi il mio codice è più compatto, più semplice e soprattutto più sicuro perché qui ho uno student e quindi non devo andare a fare nessun controllo aggiuntivo. Abbiamo visto negli esempi precedenti l'uso di un operatore che si chiama Diamond Operator che permette una scrittura compatta. Questo operatore è stato introdotto in Java 7 ma noi l'abbiamo utilizzato senza pensarci troppo. In realtà quando sono stati introdotti i tipi generici in Java era necessario ripetere il parametro di tipo sia nella dichiarazione del tipo, quindi ad esempio list e di string sia nella dichiarazione quando vado a creare l'oggetto con la new. In Java 7 è stato introdotto il Diamond Operator ovvero quando faccio la new non ho la necessità di andare a specificare il parametro di tipo perché il compilatore è in grado di inferire questo tipo dal tipo a cui vado a fare l'assegnazione. Quindi questo ci risparmia un po' di scrittura e ci semplifica il codice che quindi di nuovo è più semplice da scrivere. Attenzione, questa è una caratteristica introdotta in Java 7 quindi da Java 5 e Java 6, il codice scritto all'epoca di Java 5 e Java 6 non include il Diamond Operator ma include la doppia dichiarazione. Oltre alle classi generiche io posso andare a dichiarare dei metodi che sono generici quindi posso scrivere una classe tranquilla, normale e al suo interno andare a dichiarare dei metodi che sono generici. Come faccio? La sintassi è quella che vediamo qua quindi ho i vari modificatori esattamente come prima quindi pubblico, privato, statico, final, eccetera la dichiarazione del o dei parametri di tipo tra minore e maggiore il tipo di ritorno, il nome della funzione e i parametri. Quindi semplicemente prima del tipo di ritorno vado a mettere il parametro di tipo racchiuso tra minore e maggiore. Ad esempio se io voglio andare a scrivere un metodo che si è in grado di verificare se un certo elemento compare all'interno di un array nel caso di assenza dei metodi generici dovrei andare a utilizzare dei array di tipo obgetto e di elementi di tipo obgetto. Con i tipi generici io posso andare a scrivere un array t e un elemento t quindi automaticamente il compilatore è in grado di andare a verificare perché dato un array di un certo tipo gli elementi di cui vado a verificare la presenza siano sostanzialmente compatibili siano dello stesso tipo dell'array. Quindi dichiaro questo parametro di tipo t e automaticamente posso utilizzare t in vari punti qui nella dichiarazione ma poi anche nel corpo del metodo andando a dire che ad esempio for t current uguale in array faccio la verifica se current equals l'elemento che sto andando a verificare e nel caso restituisco true. Quindi io posso avere una stringa di parole e andare a dire contains word fox e questo automaticamente mi permette di fare un controllo in fase di compilazione che io vada dato un array a cercare degli elementi del tipo corretto. In generale i tipi che abbiamo utilizzato finora sono detti unbounded ovvero senza vincoli. Perché? Perché non ci sono vincoli io posso sostituire un parametro t di un tipo generico con una qualunque classe. L'unica assunzione che può fare il compilatore in questi casi è che sostanzialmente t debba estendere object come qualunque classe. di conseguenza quando deve fare le verifiche di correttezza di tipi il compilatore assume che t sia uguale a object e quindi per qualunque variabile di tipo t ha a disposizione solo ed esclusivamente i tipi di object. Per cui ad esempio se noi dovessimo scrivere un metodo di ordinamento generico come quello che vediamo qua in pratica diremmo diremmo che il metodo sort accetta un array di tipo t dove t è il parametro di tipo di questo metodo generico abbiamo due cicli che confrontano gli elementi e poi abbiamo un metodo compareTo chiamato sull'elemento j-1 e a cui passo come parametro l'elemento j. il problema è che se scrivo questo il compilatore mi segnala che il metodo compareTo non è definito per il tipo t perché? perché in questo caso il compilatore può assumere che t sia uguale ad object non ha nessuna informazione aggiuntiva invece in alcuni casi è utile dire che t non può essere un oggetto qualunque ma deve essere per forza derivato da una certa classe per cui sono stati introdotti quelli che si chiamano i bounded type ovvero quando io vado a definire un parametro t vado a dire che questo parametro t estende b ovvero significa che io potrò andare a sostituire t nella realizzazione del tipo generico utilizzando b o una qualunque delle sue sottoclassi questo si chiama un upper bound ovvero la classe che rimpiazza t può arrivare fino a un certo livello ovvero il tipo b o una delle sue classi derivate per cui nel caso del nostro metodo generico di ordinamento quello che posso fare è andare a dire che t estende comparable a questo punto il compilatore sa che t è almeno un qualcosa che implementa comparable e quindi avrà a disposizione il metodo compare to perché il metodo compare to è definito all'interno di comparable attenzione in realtà abbiamo visto che le interfacce che abbiamo utilizzato finora a partire da java 5 sono state ridefinite come interfacce generiche per cui quando parliamo di comparable in realtà dovremmo per migliorare la leggibilità del codice dire che in realtà è comparable di t ecco questo è un metodo bounded per andare a fare l'ordinamento ovviamente possiamo scrivere la variante che ha invece dell'ordinamento naturale utilizzando il compare to l'utilizzo di un compare to per cui possiamo andare a dire che abbiamo un metodo sort che riceve un array di elementi di tipo t e un comparatore di tipo c allora a questo punto qual è il vincolo il vincolo è che mentre t non ha nessun limite può essere di qualunque classe c deve estendere un comparatore di t quindi in questo modo noi stiamo andando a dare un limite superiore a c quindi c deve essere qualunque classe purché estenda o implementi visto che compare to un'interfaccia compare to di t a questo punto il compilatore è in grado di andare a verificare che dentro cmp esiste un metodo compare e che i parametri di compare siano sostanzialmente compatibili con gli elementi di tipo t che sono gli elementi dell'array v che noi stiamo andando a ordinare ovviamente noi possiamo utilizzare anche quest'altra notazione quindi andare a dire che abbiamo semplicemente il tipo t come parametro del nostro metodo e andare a dire che il primo parametro è t utilizzato come elemento come tipo degli elementi dell'array e il secondo è un comparatore di t quindi le due varianti in cui abbiamo due parametri t e c oppure un unico parametro t sono sostanzialmente equivalenti a questo punto è utile fare qualche considerazione su come i tipi generici possono interagire con l'ereditarietà allora mentre noi sappiamo che in generale ad esempio integer è una sottoclasse di object ecco potremmo aspettarci che coppia di integer sia una sottoclasse di coppia di oggetti ecco questo in realtà in java non è vero perché ve lo faccio vedere con un esempio molto specifico immaginiamo di andare a definire una coppia di interi pi inizializzata con 0 e 1 a questo punto io posso se fosse vero che la coppia di integer è una sottoclasse di coppia di oggetti potrei fare un upcast dicendo che pn coppia di oggetti è uguale a pi a questo punto potrei andare a scrivere il primo elemento della coppia di pn con questa stringa 0.5 0.5 lo posso passare lì perché qui si aspetta un object se passo una stringa mi viene fatto tranquillamente un upcast a questo punto potrei andare a prendere pi.first e quindi il compilatore si aspetta che il metodo first di pi essendo come parametrizzato con integer mi restituisca un integer in realtà l'ho appena messo a una stringa e quindi qui avrei un errore il compilatore mi dice che questo è corretto ma a runtime avrei un errore di tipo quindi avrei un cast exception qui dove in realtà mi aspetterei tramite un upcast un'operazione sicura e garantita tutto questo avviene perché in questo frammento di codice abbiamo considerato come se fosse legale questo upcast da pair di integer a pair di object in realtà questa operazione in java è vietata ci viene dato un sostanziale errore di tipi incompatibili in generale quando abbiamo contenitori ed elementi possiamo andare a parlare di due tipologie di relazione tra ereditarietà dei contenitori ed ereditarietà degli elementi le due tipologie si chiamano o varianza oppure covarianza abbiamo una covarianza se dato che a estende b allora il contenitore di a estende il contenitore di b la covarianza è un qualcosa che noi abbiamo visto e ce l'abbiamo ad esempio sugli array abbiamo invece un'invarianza se dato che a estende b non possiamo dire nulla sul fatto del contenitore di a e il contenitore di b ed è questo che abbiamo in java questo sostanzialmente mette qualche vincolo in più ma ci dà la garanzia che non possono essere fatti delle operazioni illegali che portino a degli errori runtime che non ci saremmo aspettati per cui i tipi in java sono invarianti qui se anche integer per estende object per di integer non estende per di object per cui se cerchiamo di andare a scrivere per di integer e poi cerchiamo di fare un upcast da p a p n quello che otteniamo è un type mismatch quindi questo non è possibile invece in java sono covarianti gli array per cui quando io ho un array di stringhe posso tranquillamente andare a fare un upcast da array di stringhe array di oggetti ovviamente questo è pericoloso perché a questo punto il compilatore potrebbe lasciarmi andare ad assegnare a un elemento del mio array di object un integer in effetti integer è un object e quindi da un punto di vista del compilatore questo è legale e consentito il problema è che a questo punto a runtime avrei un'eccezione in particolare è un'eccezione di array store exception quindi il fatto di consentire agli array di essere covarianti cosa che permette di andare a scrivere dei metodi in maniera abbastanza semplice quindi io posso mettere un metodo che accetta un array di obgetti e a questo punto posso passare utilizzando la covariance un array di qualunque tipo il punto è che però la covariance espone gli elementi che sono covarianti a errori di questo tipo di incompatibilità che però viene scoperta soltanto a runtime mentre a compile time non mi dà nessun problema ovviamente gli array sono stati dichiarati covarianti per avere una certa flessibilità la flessibilità è molto utile e invece quando parliamo di tipi generici questi sono invarianti e quindi abbiamo dei vincoli vediamo quali sono questi vincoli e come possiamo andare a sorpassarli utilizzando delle notazioni appropriate quando noi andiamo a cercare di scrivere un metodo come quello che vediamo qua che prende un oggetto coppia di object e cerca di stamparlo facendo print di p.first e p.second se proviamo a invocare questo metodo che pare essere generico passandogli una coppia di integer ecco il compilatore ci dice che il metodo non è applicabile per questo argomento perché perché qui abbiamo un perdi object cerchiamo di passare un perdi integer il compilatore visto che i tipi generici sono invarianti ci dice perdi integer non è una sottoclasse di perdi object e quindi non posso fare un upcast risultato quella chiamata è illegale quello che possiamo fare è andare a mettere un tipo qui non andando a mettere object ma andando a mettere un metodo generico dichiarando t come un qualunque tipo e quindi andando ad accettare perditi ovviamente a questo punto qui p.first e p.second saranno di tipo t che il compilatore sostanzialmente assume essere object o una sua sottoclasse però non sa qual è la sottoclasse quindi lì ci dà esclusivamente i metodi disponibili all'interno della classe object un'alternativa è quella di andare a utilizzare quelli che si chiamano le wildcard ovvero il punto interrogativo che in java si legge unknown punto interrogativo significa è una classe sconosciuta non vogliamo sapere nulla della classe in questione ovviamente punto interrogativo si legge unknown mentre invece posso avere le varianti bounded quindi punto interrogativo extends b quindi abbiamo un upper bound per il nostro tipo sconosciuto e possiamo anche avere quando abbiamo a che fare con le wildcard un lower bound quindi dire che il nostro unknown super t quindi è una super classe di d per cui il nostro metodo di stampa potrebbe anche essere scritto in questo modo quindi pair di unknown a questo punto il nostro compilatore ci dice che riusciamo tranquillamente a chiamare il metodo print pair passando un pair di qualunque tipo qui in effetti stiamo dicendo che unknown ovviamente quando noi utilizziamo la wildcard unknown stiamo dicendo che può essere qualunque classe e quindi il compilatore utilizza un approccio molto conservativo per cui se ad esempio ho un metodo che si chiama clear first che dovrebbe mettere la stringa vuota al posto del primo elemento e passo un pair di unknown ecco il compilatore ci dice che il metodo non è applicabile perché il nostro unknown è per l'appunto sconosciuto e quindi non sa se la stringa è compatibile con questo unknown della coppia che è stata passata come parametro quindi in generale quando abbiamo un unknown normalmente il compilatore assume che quello possa essere equivalente a un object in più fa un controllo e impedisce qualunque assegnazione a un riferimento di tipo unknown proprio perché è sconosciuto e quindi non ha nessuna idea non posso neanche assegnare un object attenzione quindi i vincoli sono molto molto stretti quindi in generale io posso utilizzare unknown magari bounded per andare a fare tutta una serie di operazioni ecco immaginiamo a questo punto di voler andare a scrivere un metodo che è in grado di prendere i due elementi di una coppia e di sommarli ovviamente questo funziona soltanto se io ho degli oggetti a cui posso andare a estrarre un valore ad esempio double in java esiste una classe che si chiama number che è la superclasse di integer double e long a cui posso andare a chiedere di restituire il valore double quindi se io ho una coppia di oggetti tipo number posso andare a dire p.a.double value e p.b.double value e sommarli ovviamente se io dichiaro il metodo sum in questo modo potrò passare soltanto delle coppie di number e non delle coppie di integer o di double o di qualunque altro tipo perché abbiamo detto che i tipi generici in java sono invarianti posso però andare a definire un tipo un metodo generico dove definisco il parametro t diciamo che t ha come upper bound di estendere number e quindi posso andare a definire il metodo somma con questo tipo bounded come per di t a questo punto a t posso sostituire qualunque classe che sia una sottoclasse di number oppure number stesso e quindi questo mi permette di passare una coppia di interi una coppia di double una coppia di long perché sono tutte sottoclassi di number un modo alternativo di andare a scrivere queste dichiarazioni è di andare a dire che io ho una coppia di unknown che estende number quindi questa scrittura che vediamo qui in fondo è sostanzialmente equivalente a questa sopra è semplicemente un po' più compatta e usa quelli che sono unknown le wildcard possono essere utilizzate per risolvere anche altri problemi vediamo un altro caso particolare se vi ricordate abbiamo scritto il metodo sort pair che accetta un pair di tipo t dove t estende con parable di t quindi sort pair che cosa fa se il primo elemento della coppia confrontato con il secondo è maggiore di zero allora li scambia quindi semplicemente prende i due elementi della coppia e li ordina ovviamente t va bene purché estenda con parable di t ora a questo punto andiamo a vedere un caso particolare immaginiamo di avere una coppia di master student che cos'è un master student? è una classe che estende student che a sua volta estende ovviamente con parable di student implementa in realtà con parable di student di conseguenza io dico benissimo se il mio compare to definito dentro student ordina in base a studenti in base alla matricola degli studenti io posso tranquillamente andare a ordinare dei master student sempre in base alla matricola il punto è che se io cerco di chiamare il metodo sorpare su una coppia di master student quello che ottengo è sostanzialmente che il metodo non è applicabile alla parametro pair di master student voi direte sì ma in realtà è un qualcosa che implementa con parable sì ma attenzione se io vado a prendere la dichiarazione del metodo sorpare e vado a rimpiazzare t con master student che è il tipo della coppia ottengo che al posto di t metto master student e vado a dire che master student extends con parable di t ovvero master student che non è il caso perché il nostro master student non implementa con parable di master student ma bensì implementa con parable di student e quindi c'è questa differenza la soluzione qual è è quella di andare a dire che in realtà per il metodo sorpare con coppie di t t deve avere come vincolo di estendere con parable non di t ma di unknown super t ovvero il tipo t ad esempio il nostro master student deve implementare l'interfaccia con parable non necessariamente di master student ma anche di una qualunque sconosciuta classe che sia una super classe di t a questo punto il tutto funziona perché t master student implementa con parable di student che è una super classe di master student di conseguenza i metodi sort che sono definiti dentro Arrays possono sfruttare questo meccanismo in modo da andare a fare un controllo preciso ma nello stesso tempo flessibile che mi permette di andare a fare degli ordinamenti di elementi che siano effettivamente compatibili con questi vincoli ovvero gli elementi devono implementare l'interfaccia con parable non necessariamente della classe specifica ma anche di una qualunque delle sue super classi per cui il metodo sort di un Array di t potrebbe essere scritto come static t extends comparable di unknown super t stessa cosa per il comparatore quando io ho il metodo sort che accetta un comparatore il comparatore deve essere un comparatore di non necessariamente t ma unknown super t quindi questo è il modo in cui effettivamente il metodo sort dentro la classe Arrays è dichiarato e semplicemente permette al compilatore di fare una verifica che il tipo degli elementi dell'Array che io sto andando ad ordinare effettivamente implementino comparatore direttamente per la propria classe o venga implementato il comparatore di una qualunque delle superclasse per quanto invece riguarda il metodo sort di t non è dichiarato in questo modo è dichiarato semplicemente come un Array di object ma questo è stato fatto sostanzialmente per motivi di compatibilità all'indietro perché perché ci sono alcuni frammenti di codice che utilizzavano un sort di object senza nessuna verifica particolare quindi per mantenere la compatibilità all'indietro non è stata fatta questa dichiarazione che vediamo qua che sarebbe quella ragionevolmente corretta a questo punto non ci resta che andare a capire quali sono alcune altre caratteristiche dei nostri tipi generici questo lo faremo però in una prossima lezione attra